30 settembre Egli renderà ancora il sorriso alla tua bocca e sulle tue labbra metterà canti di esultanza. Giobbe 8, 21 Superare le difficoltà A volte, quando il cuore è spezzato, la guarigione precede la risposta. È preferibile camminare con Dio nell'oscurità piuttosto che da soli nella luce. Giobbe probabilmente non ha mai compreso appieno tutte le perdite subite e il motivo di tanta sofferenza. Ma arrivò il momento in cui guardandosi indietro potrei affermare con fiducia. Egli renderà ancora il sorriso alla tua bocca, sulle tue labbra metterà canti di esultanza. Questa promessa di Dio è anche per te. Sappi che tutto all'infuori di Dio ti deluderà. Per ogni situazione difficile che affronti nella vita, Dio ha grazia e sufficienza per fartela superare. Per ogni bisogno, Lui ha un aiuto. Per ogni problema, Lui ha una risposta. Per ogni ferita, Lui ha la cura. In Geremia è scritto Non c'è nulla di troppo difficile per te. Geremia 32, 17 Dio desidera occasioni per mostrare ciò che può fare per te quando Gli dai fiducia. Non sei contento che la bontà e la grazia di Dio si fondano sul suo carattere e non sul tuo? Se vuoi essere liberato, guarda in alto. Quindi la parola per ciascuno di noi oggi è Per la grazia di Dio supereremo questi momenti difficili. Per la grazia di Dio supereremo questi momenti difficili.